yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo qui con un nuovo videolotto si ragazzi non è uno sono ben tre perché perché non so effettivamente cosa c'è dentro non so se è poca roba non so se è tanta quindi nel dubbio accorpiamo scatoline piene di carte e andiamo a capire insieme effettivamente cosa ho comprato e poi mi farò un'idea di quanto effettivamente ho speso detto questo però ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio che da effettivamente qualcosa in cambio cioè ragazzi se voi acquistate da loro sia fanco che sia giochi da tavolo sia giochi di carte io mi prendo una commissione quindi passando tramite il mio referral link e utilizzando il mio codice sconto voi mi supportate ovviamente voi risparmiate stessa cosa ragazzi funziona per jackson il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese yuki one piece e poi boh hanno fanco sleeve roba interessante roba spicy quindi ovviamente se volete anche di supportarmi prefera il link e codice sconto sempre qua sotto in più se volete liberarvi carte di yuki magic pokemon e one piece come hanno fatto i ragazzi ovviamente vi ricordo che qua sotto in descrizione c'è il mio instagram contattatemi mandatemi le foto e se c'è roba interessante anche non interessante scrivetemi mandatemi le foto e ci si accorta nel caso è che io un accordino diciamo riesco a trovare sempre detto questo andiamoci a vedere cosa mi è arrivato allora ragazzi la situazione qua è tragica la roba da vedere è tanta quindi sbrigiamoci perché perché sono anche curioso e i ragazzi ovviamente vogliono essere pagati quindi andiamoci subito a vedere cosa è arrivato partiamo dal primo che me lo manda willy che ha messo tutto in questo bellissimo boxettino delle magnifiche sperte dove all'interno non c'era niente pori shizu che da 200 euro adesso costano zero ovviamente 200 euro tutto il reparto ragazzi non so se vi ricordate all'epoca sembrava una short print sembrava che non uscissero e quindi diciamo un amico che si era fatto tutto il set in tedesco per risparmiare a 200 euro un mese dopo ti facevi lo stesso set a 50 ora ora mi dovresti pagare per darmele mettiamola così ma vabbè allora o abbiamo questo bellissimo noir che non si vede che ovviamente post rarity è salito a 5 euro onesto poi abbiamo questo salamagna furiosa fenice da led 10 che nel pratico potremo andare a pullare le prossime settimane perché ho ben tre box in tedesco speriamo nell'agosto però va bene poi abbiamo qua un paidra un gaia che è tipo pur in tedesco ok poi questo dei koichi simpatico questa principessa di fuoco vabbè abbiamo visto tempi migliori buttigre jet ino kagutsuki un rico da lodd andiamoci a vedere un po le condizioni perché ragazzi questa non è la riprinte questa questa roba di qualità allora ci sta onesto poi andando avanti abbiamo un annullatore di magia un altro rico a questo giro collector che vabbè ci sta più bello secret però famocelo andare bene abbiamo anche queste antiche ruvine codice a una sola un ritorno dei draghi fantasma in lutto platinum va bene un valchirion un droga risulti abilità quarter che secondo me la ballano no la limitano e poi mascherina platinum il primo finisce qua che poi ho detto una cavolata non è di willy ma è di matteo quindi matteo grazie delle carte allora prossimo lotto andiamo con una roba abbastanza grosse mi sa che qua di bike ce ne sarà un po è andiamocelo ad aprire e vediamo perché speriamo che non mi abbia mandato solo comuni perché altrimenti lo devo linciare e gli rimando tutto indietro che poi non mi ricordo manco cosa ho preso mamma mia allora apriamocelo oh ragazzi guardate qua quanta robetta allora abbiamo un bel paio di cuffie della boss ovviamente non credo ok queste non le andremo a vedere queste già potrebbero essere interessanti però boh boh capiamo un attimo quante sono eh così tanto per farci un'idea no 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 ragazzi famo finta di non aver visto niente e queste andranno dentro il cammino poi andiamo avanti abbiamo un bell'album che questo ce lo vediamo che questo ce lo vediamo dopo e andiamo un attimo con questo che secondo me c'è altra roba spicy molto interessante allora apriamocelo che sono molto curioso ragazzi il label del psa ma che cazzo ho comprato questo ce lo vediamo dopo apriamo l'album e vediamo cosa c'è qua dentro abbiamo qua no dai zi non riuscirò mai a tirare fuori le carte vabbè qua abbiamo roba a caso è ok poi qua sembra tutte monocopie vabbè ex scarafaggio in zektor non è male poi vabbè stregone ha visto tempi migliori un wolf non potrò mai vedere le condizioni delle carte impossibile vediamo questo wolf sembra bellino è nex è nex dai però c'è posta poi cos'altro abbiamo sergente stijan delle c5d non sta tanto però è il set che è interessante allora abbiamo qua un altro ricco c'è il primo ricco il mio ennesimo ricco gold questo è simpatico è pre rarity roba del genere stavano a 7 euro cad però anche attualmente non è che si è sceso tanto tanto non è una rarità che è stata stuprata attualmente poi abbiamo la fratellanza i samurai questa che è carina non si sa perché costa vabbè che c'è poche print però ok della roba pokemon nel caso tiro su anche quella ragazzi e vabbè più o meno così l'oracolo ci sta carino sto andando un po veloce perché adesso ragazzi mi è presa voglia di capire che cazzo di psa ho comprato inizio bello questo inizio a ricordare chi cazzo ho comprato sta roba ok però intanto così a caso buttato lì ok importante che non si rovina la carta questo ok togliamo sta roba abbiamo un cavaliere drago equiste ghost non in condizioni ottimali ovviamente perché si mamma mia quante botte ha preso ma vabbè almeno in italiano non è niente in crucco poi andiamo a alla roba hard ragazzi che qua ci potrebbe essere qualcosa di molto ma molto goloso adesso non vorrei dire eh io ragazzi ho capito che psa è ho ho connesso su a chi me l'ha mandato l'ho presa solo perché l'ho presa per il meme non vale assolutamente niente ragazzi è stata una è stato un acquisto stupido però quando l'ho visto detto come faccio a non comprarlo allora provate a indovinare scrivetelo qua sotto nei commenti ebbene sì ragazzi curiba psa 8 america che acquisto del cazzo che acquisto del cazzo ma vabbè mettiamolo insieme alle altre psa poi andiamo col resto che sicuramente avrà robe molto più interessanti abbiamo un mac fusoliera vabbè abbiamo poi offion tutto il contrario basta allora uno jubel poi allora proviamo a reggirarle abbiamo un po di roba vintage doz soldato bello ultimo desiderio questo è interessante questa è carina poi roba a caso ultima ultima offerta la lega vabbè questa è tutta roba abbastanza cheap cioè cheap cheap vendibile però qualcosina che costicchiava c'era poi abbiamo preparazione di riti zanna d'argento ragazzi di cosa stiamo parlando vabbè poi abbiamo mac pacificatore un altro mac pacificatore blade edge hyperion un altro mac fusoliera carino che in inglese stanno un sacco in italiano non costano oltrettanto ma vabbè in inglese la gente le vende a prezzi insensati poi abbiamo scarafaggio branco acciaio che anche questa non è male poi il flauto urquisas buono che l'avevo finiti anche se mi sembra in pessime condizioni poi abbiamo il tornato drago polverista e l'assalto un barchio un abbandono con due b e non tre quindi un po così fascino mac fortezza e un altro drago equiste però non ho ancora a dopo c'è ragazzi ci stanno le carte video uploader ovviamente allora quindi queste possiamo tirarle su tutto insieme perché tanto è la roba un po così un po quella simpatica quella che fa mucchio allora abbiamo arcidiamo il drago rosso mago da gaga c 105 una dionea vabbè onesto alieno teschio fantasma per queste altre comuni le comuni vintage poi vabbè la gente del mistero terra questo pyrex no si pyrex che me fumo come cavolo si chiamava pyrorex poi abbiamo qua cosa c'è vabbè altre comuni random vabbè almeno erano slivate si sono rovinate poco poi abbiamo aileen aeroflash bello dai joy poi altre comuni distruggi carte utopia numero 17 vabbè roba al contrario niente di particolare bello questo pendente speriamo sia messo si vede una crepa dietro non credo sia messo bene salamandra grattacielo salamandra tipo non riesco a trovarne una in condizioni umane mi arrivano tutte distrutte che volevo fa il set però un po così poi insetto sega che ce l'ho anche ultimate vabbè caduta il sistema bella rara la crv questa per retro format è un bijou poi attacco icaro vabbè comune a caso preparazione eruzione vabbè buco trappolacido tifone sintonizzare vabbè guerriero rapido due bubble man super ma tanto ci sono quelli si che da speed duel e quindi non li metterò nel mazzo adesso ragazzi andiamo a quello che mi premeva di più vedere ovviamente ovvero le carte con la cazzo di vabbè busta rigida allora andiamo con la prima abbiamo un kidori il fulmine e qua ragazzi bisogna vedere un po le condizioni perché ovviamente le condizioni questa roba fa tutto ho visto una roba potente dietro allora il front sembra bellino sembra bellino non ha problemi e il back anche più o meno è un paio di puntini lì ma per il resto è un paio qua giù in basso ma per il resto è una carta più che onesta poi andiamo con l'altra ragazzi bam e non è quello edizione limitata però però questa carta da come ricordo ha dei problemi e dei seri problemi la vita non è stata con lei molto clemente ragazzi bisogna bisogna dirlo eh sì guardate qua uno due tre e poi vabbè quattro cinque però ragazzi è quello da tave eh questo è proprio bello è uguale a quello secret eh non cambia assolutamente niente però sai l'idea che ci sia scritto tave e non edizione limitata diciamo che ne amplifica il valore economico volevo dire il mio portafoglio però anche economico anche sentimentale allora andiamo col prossimo ragazzi abbiamo una ghost eh sì shooting star dragon in prima edizione carta incredibile ragazzi le ghost tutti i giochi possono copiarcele ah ok no è sporco mamma mia pensavo ci avesse un angolo sbeccato cioè un lato mangiato guardate che belle nessun gioco le sapate così belle e poi è bella clean eh c'ha un po' di pressioni ovviamente però c'è posto sta eh e quest'angolo qua giù vabbè però è uno shooting star ghost in prima eh in inglese non so attualmente a quanto sta eh ma penso almeno una sessantina di faccia pulito allora poi andiamo con la prossima proviamo a tirarla fuori per vedere anche le condizioni ragazzi perché sta roba si è messa bene un conto si è messa male un altro allora partiamo abbiamo un brain control sì no un sì un brain control lc y w se non ricordo male sì guardate qua che bello eh sì oh peccato il retro ragazzi vabbè è una carta da retro format eh e c'è posta alla fine comunque è fighissima secret ragazzi konami dovrebbe stampare più set come legendary collection sono incredibili la foliatura è bellissima le carte sono fantastiche l'unica cosa è che peccavano un po' di silvering le carte all'epoca però ci metterei la firma spacchetta un prodotto del genere ora vabbè prossima carta abbiamo una nishi che questa ragazzi è roba interessante perché considerate una roba escono i nuovi supporti sei samurai eh e quindi che fai non te lo giochi max rarity il mazzo adesso non è che te posso dire sì però mi dispiacerebbe vedertelo giocare comune eh guardate qua guardate che bello allora quello che un po' mi grava è che molte ultimate hanno la la creatura il mostro che è in rilievo è lo sfondo ultimate invece qua hanno risparmiato tempo e hanno fatto tutto un mappazzone che ok ci sta però è un po' un peccato mettiamola così andiamo con gli ultimi due top loader partiamo dal primo che è questo qua allora tiriamole fuori abbiamo due carte la prima è il mago nero del caos da anche questa delle chips non doppio v molto pulito molto pulito ragazzi guardate qua i graffi dovrebbero essere della sì della sleeve quindi è una carta messa discretamente bene non dico che sia un nm bello pulito però un nm meno sicuramente e poi ragazzi abbiamo lo zombie goblin ovviamente ragazzi bisogna dirlo ragazzi non stiamo parlando di cartine piccole eh comunque è tutta roba da 30 40 euro che si gioca in retroformat che hanno fatto la storia effettiva del gioco parte il lato economico che si ragazzi faccio vedere carte costose però ragazzi allora l'artwork è incredibile viene da una delle espansioni più belle di yugi ptdn quindi che vuoi fare ovviamente se la vuoi giocare in retroformat è anche complicato da recuperare se la volete ovviamente nm poi in condizioni più basse si trova facilmente però nel senso dopo lista voi e per concludere ragazzi abbiamo il king ragazzi drago bianco chi blu da lob ennesimo questo è il secondo che c'ho quello in prima è partito vabbè ragazzi qua stiamo parlando di una carta maestosa incredibile una carta che in condizioni perfette in prima inizione raggiunge cifre insensate questo ovviamente non vale quelle cifre però ragazzi guardate qua che artwork pazzesco che gli evo di che poi in questa versione c'è la versione lo structure e poche altre nel senso se non se non solo quelle due dovrei ricontrollare però è uno degli artwork più belli che c'ha e ovviamente non iconico quanto quello dello structure però questo è il primo vero drago bianco uscito d'espansione mettiamola così ebbene ragazzi andiamo adesso a concludere con l'ultimo pacco questo è venuto dal cielo è un dono degli dei mettiamola così e andiamoci a vedere cosa è arrivato allora tocca andarci un po ignoranti altrimenti col cazzo che si apre e vediamo a posto o ce l'abbiamo fatta più o meno allora non è pokemon ragazzi dovrebbe essere tutto yugi però mi ricordo che c'è roba bella spicy vedo raggiù un po di carte col top loader quindi capiamo allora già partiamo bene abbiamo un turbo warrior che mi sembra anche american diamo adesso un attimo a controllare e mi sa di sì poi gli do un'occhiata meglio dopo ed è messo anche discretamente bene ha un paio di puntini bianchi lassù in alto però è bello pulito poi abbiamo questo antico drago fatato che questo è american anche questo mi sembrava messo molto bene almeno dalle foto guardate qua sì 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 questo questo è bello pulito poi ho visto una carta dopo che era quella che mi premeva di più non per il valore ma proprio perché usciva da un prodotto particolare non mi chiedete quale che non me lo ricordo e che dovevo metterla in collezione il front sembra bello pulito e dai dammi le stesse vibes per il back sì godo sì sì questo è come piace a me pulito e senza nessun punto bianco top dai questa mettiamocela subito via e siamo a posto andiamo avanti allora abbiamo la big core instant fusion americana l'unica cosa è che ste carte sono tutte imbarcate cioè le condizioni sono buone ma mi toccherà mettere sotto un po di libri per ridargli una forma umana vabbè poi abbiamo questo vabbè questo neostalius anche questo american topo che questo va nel mazzo poi ti chiedo pazzo american wolf american guardate che belle macrocosmo american escape from the dark dark dimension anche questa mi sembra american poi due fusione future top light and dragon due copie cyber drago replica exes revived king quanto sono questi sono incredibili ragazzi sono incredibili allora vediamo le condizioni è anche questa roba nm più che altro ragazzi ste carte con sono un po imbarcate probabilmente sono diventate così probabilmente perché stavano dentro la perfetta c'ho questa sensazione vabbè speriamo che sia anche quella messa bene e poi qua un po di di carta a caso andiamo avanti o abbiamo guardia della carta anche avuto ha visto tempi migliori il creatore o tartaruga smeraldo belle queste tutta roba american questi no eriza super vicroid dragola valval prova il gradatore anche questa american scambio regame questo che è successo su questo cura questa la prendo come miss cat ok ragazzi io c'ho la sensazione che questa io l'abbia venduta sul market tempo addietro e non puoi non può essere sempre lei dopo io chiederò ragazzo ovviamente all'epoca non aveva uno strappo è vabbè poi simog dark generale questo è bello questi sono belli è elfi gemelli ragazzi secret american che belli per un secondo ho visto una grinsa no no ma non ce l'ha è proprio perfetta godo mettiamola qua poi no è spagnolo che merda vabbè figo comunque ragazzi allora ecco è così che mi piacerebbero le ultimate cioè lo sfondo ultimate e l'artwork davanti che si vede fa tutto un altro effetto mettiamola così e poi semi di fuoco se non lo ricordo male poi andiamo avanti tiriamole fuori tutte e intanto vi spoiler una delle carte che ho acquistato abbiamo il flame dragon livello 6 questo blaze wing the mask allora giudizio di anubis un token carino questo un altro ah ok questi erano quelli che erano usciti all'epoca anche da noi allora andiamo avanti il merick control vabbè yubel vabbè qua niente di interessante gli altri tutti e tre di yubel altri yubel che poi sta roba costa perché escono da un set del cazzo e poi yubel è forte adesso a parte tutto poi diamo avanti abbiamo questo dark red enchanter che oh è bello pulito eh mamma mia quanto riflette sagamerican pure questo daie anche questo da ptdn peccato che in seconda vabbè allora abbiamo poi il machine lord drago malvagio da questo a caso questa a casa questi due caius interessanti per retroforma per retroformat norelas guardiano bella questa questa è super cazzo l'unica cosa è le condizioni non so un gran che però una bella carta ci può stare poi abbiamo vabbè il fanta bellissima questa è collector ragazzi io non mi ricordavo più niente di quello che avessi preso oh questa è una bella collector con con l'artwork separato vedete che belle sto rivalutando le collector sì mi sto invecchiando molto probabilmente vabbè diciamo che sono delle ragazzi il problema è che sono delle ultimate depotenziate e questo è quello che mi grava beh sang andare tro pack un braccio da lob questo è pulito sta roba un altro norelas il numero 39 dai dark dark blade carino per retroformat è uno o due non capisco la notte beh a tigre da laboratorio poi abbiamo sparkman in triplice copia poi abbiamo prisma anche questo in triplice copia allora una cyber prima in american stratos credo anche questo in triplice copia evian anche questo in triplice copia guerriero trapano la viverna turbo guerriero e il drago bianco chi blu bene andiamo con le ultime che sono ovviamente le più importanti abbiamo questo drago utensile in prima edizione ovviamente non sarà mai messo in maniera perfetta che altrimenti costava troppo beh beh allora pensavo peggio però c'è una pressione lì gli angoli un po mangiati qua è un po aperto vabbè nel senso è una carta bella carta bella per gli anni che c'ha e famo ci anda bene comunque alla fine è sempre una costa poi andando avanti abbiamo un drago tricorno in prima edizione vediamo le condizioni che ovviamente se messo bene vale una fracca il problema è che già vedo dei graffietti vedo già dei graffietti quindi un po così alla fine ragazzi il back è bellino un po sporco però ci sta ci può stare dai comunque ragazzi ldd prima edizione prima espansione uscita quindi accetto di non di non avercela in maniera ottimale prossima uh altra carta ldd anche questa in prima edizione vediamo un po le condizioni è ok anche questa ha visto tempi migliori perché un po graffiata l'angoletto l'ha aperto da come si vede anche sul retro è un play ed dai me lo faccio andare bene comunque sono prima edizione ragazzi mi sento ragazzi ciccio gamer che dice cazzo una prima edizione costa cazzo questa carta sta 450 euro è l'unica carta da pullare no ragazzi non è proprio così eh allora andiamo con la prossima c'è anche questa è una bella carta iconica dopo c'è una bomba che ragazzi voglio far vedere perché le condizioni sono pazzesche allora questo è un drago bianco in blu da mic in prima edizione è ok vabbè è un po graffiatello sul retro ed è una carta credo da una ventina d'euro attualmente perché lo giocava kaiba e quindi che vuoi fa poi diamo avanti abbiamo un'altra costa questa un pochino più recente e ma ci sta perché perché comunque l'ultimo drago che mancava ghost ovvero l'archilemon era grosso che usciva in tdgs dove effettivamente c'era già il polvere quindi vabbè finalmente si può completare il set di tutti i draghi ghost sapete che forse me ne manca uno mi manca il rosa nera ce l'ho in seconda l'antico drago fatato me manca porca troia e vabbè ragazzi andiamo con l'ultima la chicca la chicca la chicca più bella del mondo spero che sia nelle stesse condizioni delle foto perché se no sbrocco sto testa lo è insane le condizioni sono insane c'è un paio di puntini bianchi lassù in alto infinitesimali e il retro è bellissimo questa è stata sbustata e messa is live per vent'anni non ha senso per com'è messa guardate com'è bello spaziale questa dubito esca dal mio album c'è questa possibilità vi dico così e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente qual è la carta che vorreste voi nella vostra collezione quella che avete visto perché ragazzi qua c'è tanta robetta interessante mi è arrivata è qualcosa andrà nell'album qualcosa andrà su car market molta roba andrà su car market quindi se vi serve qualcosa ragazzi entro stasera barra stasettimana quindi entro i prossimi giorni provo a caricare più o meno tutto è quindi se vi serve qualcosa la trovate lì link in descrizione detto questo ragazzi state mesi e noi ci vediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti